Buongiorno a tutti ragazzi da Poker Starter 3 Quinto e penultimo box Ho usato lo stesso metodo del box precedente Quindi ho già aperto tutto Tranne le E non ho visto ovviamente Le rare e le reverse Le reverse sono più alte perché ho inserito alcuni codici Da dare a voi Quindi cominciamo con le reverse Sì sono reverse, ok E c'è questo Cabciu Bellsprout Screghi Trapinch Cloitzer Hollow reverse Magmar Raichu Clefeibol Klasol Electabat Drausi Makuita Berthic raro, ottimo Ariama anche questo raro, ottimo Cloucher Clefki Machamp Machamp Hollow reverse, ottimo Torchic Ecco primo codice Per voi Sia un po' scomodo così ma fa niente Gotita Un altro codice Tanto lo vedete Aurorus raro reverse, ottimo Anche questo si dai lo vedete Dedenne Altro codice Clefeiri Altro codice Olucha Oloreverse, ottimo Un altro codice Un altro codice per voi Shroomish Questo è il mio gatto Che si diverte con la scatola Tyrantrum Raro reverse, ottimo Questo è da questa parte Minon Codice Bellissimo Lando Lando Olo reverse Un altro codice Likitang Un altro codice Vibrava Un altro Electivare Raro reverse, ottimo Bellissimo Fighting Stadium E' sempre il mio gatto In sottofondo Pangoro Raro reverse Un altro codice Pikachu Un altro codice Machop Mianfu L'ultimo codice per voi E l'ultima reverse Per me Che è un Gotorita In questo box Quindi solo una Trainer reverse Strano E ora passiamo Alle Rare Che non vorrei Spoilerare niente Quindi Ok andiamo così Allora Drapion Si vede Si Oh subito Lucario X Fantastico Bellissima Allora aspettate un attimo Che qua Subito la seconda Fantastico Bellissima La metto subito In sleeve Bellissimo Bellissimo Veramente Ottimo Ottimo Perché Lucario E' una delle più richieste Quindi benissimo Prima X trovata La mettiamo No non sta su La mettiamo qui Ok Andiamo avanti Subito Subito di fila O Lucia O Lucia X Una dietro l'altra Bellissima Allora aspettate che rifaccio l'operazione Ok Il mio gatto impazzisce nella scatola Nel case Dei 6 box Ne è rimasto solo uno E si è infilato nella scatola Bellissimo Questo Lucia X Questo Lucia X Ottimo Bellissima Bellissima Un'altra Olu Slaking Ottimo Lifion La full art Che mi mancava Era cross X Full art Bellissima Aspettate un attimo Wow Ragazzi Ufficialmente ho finito il set Con questo Sia Tutto X Full art Fuori serie E anche tutte le reverse Incredibile Aspettate che Non mi era mai successo Quindi Questo set È già completato Così potrò Gli scambi che farò Farò per completare I set precedenti Che non ho completato Perché è il primo set Che completo Subito così al volo Avendo preso 6 box Non pensavo di completarlo Invece Wow Bellissima Questa full art Non mi piaceva tantissimo Vederla dal video Invece Dal vero Devo dire che Bella Veramente bella Ottimo ragazzi Allora quindi siamo a Due X E una full art Ottimissimo Direi Veramente ottimo E ho ancora tutto questo mazzetto Quindi speriamo Magari in qualcos'altro Non si sa mai Polito Tandorus Electivire Metto anche questa in sleeve Ottimo Bellissima Qua ci sono Le stelle Ecco si adesso si vedono Delle stelline Veramente bellissima Ottimo ragazzi Che siamo Adesso cadrà tutto Sicuramente Siamo già Wow Andiamo Avanti Con Ariyama Flygon Golurk Golurk Scusate non si vede Benissimo Landorus Olo Magmortar Cloitzer Che avevo già trovato Olo Tornadus Tyrantrum Ragazzi Un'altra X Mega Heracross X Incredibile Quindi 5 In questo box Per ora Potrebbe esserci anche Qualcos'altro Non lo so Non penso Però che ho già trovato Un box da 6 Un box da 7 Rari Ultra rare Quindi Incredibile Un attimo Che metto anche Questa in sleeve Bellissima Veramente Incredibile Questo box Lo metto Qui Si sta su Si sta su Mancano Poche carte Penso si Non penso di trovare altro Eh però Vic Tribelolo Ottimo Silvion Hypno Jinx Polithod Glaceon Mamma mia Penultima carta Golurk E questa è Un'altra Full Art Battle Reporter Full Art Un altro Box da 7 3 Full Art 2 X E una Mega Incredibile Box veramente Fantastici Adesso vi faccio Rivedere tutto quello Che ho trovato In questo box Perché è veramente Tantissimo Dunque Abbiamo Olucia Olucia X Olucia X Heracross X Lucario X Ottima Heracross Ix Full Art Che mi mancava Per completare il set Corrina Full Art Ottimo E anche E anche Battle Reporter Full Art Quindi ragazzi Questo box È stato veramente Grandioso Ci vediamo Per l'ultima parte E poi ci sarà Il recap Delle carte da scambio Ciao ciao Alla prossima Alla prossima